Francesco Vaccarone chiude ieri la rassegna antologica dedicata ai 60 anni della sua attività che ha richiamato dal giorno della sua apertura un numero elevatissimo di presenze. Sono piuttosto contento, è venuta molta gente, mi dicono circa 3.000 persone, visto che il tempo non era dei migliori, piovute, e poi incontri, domande, una bella esperienza. Un'iniziativa che è interessante anche per il territorio, per il luogo che ospita la mostra e naturalmente per l'autore, per Francesco Vaccarone, che con questa collezione privata ha incontrato tanti amici come appunto quelli del FAI, ma anche collezionisti, curiosi e migliaia di visitatori che da ottobre ad oggi hanno proprio frequentato la fortezza e visto la mostra. Per l'occasione si è voluto approfondire assieme al presidente di Startup, Paolo Asse, dal maestro Francesco Vaccarone, come nasce un catalogo ragionato delle opere di un artista in una conversazione che ha visto il coinvolgimento del pubblico presente. L'opera di Francesco Vaccarone viene raccontata da Umberto Alemandi, editore. Stiamo parlando del più prestigioso editore d'arte in Italia e forse in tutta Europa, dello stesso editore del giornale dell'arte che ha edizioni in Italia, ma anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Cina, in Giappone. Con il FAI abbiamo pensato non solo di incontrare l'artista, di vedere il suo catalogo ragionato, ma di provare a descrivere, non troppo tecnicamente, ma insomma di approfondire come nasce un catalogo ragionato. Il prossimo appuntamento con il maestro Vaccarone sarà a Genova, il 30 gennaio prossimo. Si tratta della mostra Genova 1965, Francesco Vaccarone e la poesia visiva. Sarà inaugurata a Villa Croce, un appuntamento che durerà fino a marzo, in cui si farà uno spaccato del lavoro fatto per il catalogo, proprio per analizzare la viva città a Ligure, in particolare genovese, e di cui l'artista è stata protagonista nel 65, 66, 67, proprio intorno al popolo della poesia visiva, che in quegli anni vedeva la nostra regione, Genova, ma anche Spezia, tra i protagonisti del dibattito culturale nazionale. È un ritorno a un mio vecchio studio che avevo a Genova negli anni 60, quindi il mio impegno nelle ricerche sperimentali con il gruppo studio di Genova, con gli scrittori come Sanguinetti, gli scrittori del gruppo 63, Balestrini, Porta. Quindi è un tuffo nel passato. L'evento ha visto la partecipazione del neonato Fai Giovani della Spezia, che vuole sensibilizzare i giovani a rispetto della valorizzazione della bellezza del nostro territorio e qual'occasione migliore l'incontro con il maestro Vaccarone, giovane 75 anni, come ama definirsi l'artista, fortemente rappresentativo del territorio, che è riuscito ad affascinare tutti i presenti con la sua arte e la sua personalità. Sì, è anche un bel modo per festeggiare questi 75 anni.